Musica Nasce sei anni fa quando ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo palavoro, nel senso che ovviamente è maturato in questi anni, ma l'idea di realizzare questo c'era già. L'obiettivo ovviamente è quello che ho detto, è quello di far capire che oltre all'aspetto della partita, all'aspetto della prima squadra, quello che succede la domenica, dietro ad una realtà sportiva c'è tutto un mondo. Noi questo mondo abbiamo deciso di presentarlo oggi, abbiamo deciso di dare molta attenzione a partire dalla prossima stagione anche al settore giovanile che si chiamerà per l'appunto FIEI e poi abbiamo dato una progettualità da questo punto di vista per andare a costruire quella che sarà la nostra casa, il nostro centro sportivo, ovviamente con una progettualità triennale perlomeno e quindi l'abbiamo raccontata. Noi, vabbè, è una casualità che la storia recente ci insegna che probabilmente la pressione che viene messa sulle spalle di questi ragazzi quando sono molto giovani è assolutamente negativa e per questo motivo che noi, come abbiamo raccontato questa sera, non vogliamo focalizzare soltanto tutto sullo sport ma vogliamo focalizzare l'attenzione sul talento. Questo perché? Perché il talento non è detto che per un ragazzo di 15, 16, 17 anni vada ad esprimersi soltanto all'interno di un rettangolo di gioco ma esiste la possibilità che il talento si possa esprimere dal punto di vista imprenditoriale, artistico, manageriale e poi magari anche sportivo però è importante che i ragazzi capiscono che se non ci riescono a diventare dei professionisti ci sono tante strade che possono percorrere. Devo ringraziare tutti quanti, devo ringraziare l'ingegnere Guido Lerda che ci sta seguendo in questa fase diciamo iniziale nella progettualità. Devo ringraziare per i consigli sia l'assessore ospedale che l'assessore Fantino perché comunque mi guidano, mi aiutano un po' a raccontare senza svelare troppo quello che vogliamo fare e vorrei ringraziare il Comune tutto perché comunque hanno dato massima disponibilità per aiutarci a sviluppare sul territorio questa nostra idea.